Buongiorno, mi chiamo Luca Cammella della Società Etica e la Sampurezza e all'inforzo di prevenzione di incendi vorremmo presentare un prodotto totalmente innovativo che sono le tende tagli a cuoco che servono per compartimentare ambienti fino a un'automine di cortezza e un corretto massimo di 54 metri al cuoco e possono essere utilizzati per dividere o sanzionare i 4 metri anche molto armi e hanno un debole utilizzo, sostanzialmente un metodo utilizzato in Italia nell'ambito della prevenzione di incendi e di comunicazione massima.